L'idea ci era venuta, visto che lui non ha potuto essere qui a Casterotto, era quella di fare un'ostrisione, abbiamo dovuto farlo in due giorni, per far capire, ma di più di quello che era già, che Sinise è qua, Sinise è qua con noi, lo sarà per sempre, lo aspettiamo nel suo percorso. L'idea è stata questa, visto che è stato molto gradito, infatti domani sera andiamo a casa, lo porteremo anche domenica, anzi invito tutti quelli che vogliono fare una scarpinata a San Luca, lo porteremo con noi, con tutti i ragazzi che andranno su a San Luca domenica. Alle 9 una camminata a San Luca, un pellegrinaggio per Sinise. E anche lì lo porteremo per far capire che Sinise c'è, sempre, sempre ci sarà.